Quante forme di vita possono esistere all'interno delle infinite miliardi di galassie che esistono in tutto quello che c'è intorno a noi? È possibile che in tutto questo noi siamo l'unica razza esistente, intelligente, come viene dichiarato? Io mi sono chiesto questo nella scrittura di questo brano e mentre stavo scrivendo questo brano, in meditazione, una melodia è venuta a trovarmi insieme a una voce, insieme a delle immagini e in quel momento mi è successo di essere non presente in questo luogo e qualcosa è venuto a trovarmi e mi ha condiviso, mi ha portato a immaginare, a vedere che cosa potrebbe esserci qui in questo luogo dove siamo noi ora se tutto fosse collegato veramente all'amore puro ed incondizionato, all'amore che va oltre tutto quello che accade e ho voluto riportare all'interno del brano quello che ho vissuto e quello che si potrebbe portare qui se tutti insieme provassimo a sperimentare tutto questo e a portarlo nella nostra quotidianità. Quindi Solar 1 è l'invito di andare a ricercare tutto questo oltre quello che conosciamo e renderlo reale e portarlo qui dove siamo ora, un pianeta che apparentemente non esiste da lontano anni luce da noi ma che in realtà in un soffio potrebbe collegarsi con noi e rendere tutto reale e molto bello e pieno di amore anche qui dove siamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.